Ciao! E tanto per cambiare parecchio il cioccolato e qualcosina di salato sono riuscita a aggamparlo E sono riuscita solo adesso a fare il video e spero che non ci siano troppi rumori Mi stanno aggiustando il palazzo o non mi parla sotto la finestra però Di notte mi viene un po' scomodo mangiarmi tutta questa roba Ma vabbè cominciamo subito Allora queste sono nuvolette di cambero al gusto orientale Vedete? Ecco, c'è del pepe e della paprika Speriamo non siano troppi piccanti, sono come un salto pieno da un pollo C'è un pollo C'è un pollo C'è un pollo C'è un pollo Un pollo E non Non sono super piccante Ma buono Oggi però questo Ecco qua Lo sciacchissimo Ai cookies È il mio preferito Io preferisco Lo sciacchissimo Ai felpuccini e cose di Starbucks Che a te non hai Se tavola nel pacco frigo Non è che sia molto buono Di Starbucks Questo Buono Sa sia di caffè Che di cookies Pensavo al sapore Non si sentessero Di biscotti Invece Sì Poi qui abbiamo Il brincois Ketchup E l'ho trovato Più Queste Vabbè Se si trovano Non sono Rarissime Non è al gusto Proprio classico Ma si trovano spesso Proprio classico 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 Ecco che sarebbe in corso tempo, mangiate, impilate e non circolarmente. Non circolto, non circolto, non circolto, non circolto. Allora beh, questo è il gusto che ho amicciato, ketchup. Non piacciono tantissimo perché le pane è molto dolciastro, anche le wokos. Così non è che mi fanno piacere, ogni tanto si mangiano volentieri. Ora siccome lo sciacchissimo mi piace, mentre questo non l'ho mai assaggiato vita mia, mi lascio lo sciacchissimo per dopo, chissà che è buono, e assaggio questo. Allora questo in teoria mi pare, sì, c'è scritto qua, che si può anche bere caldo. Io la farò freddo un po', dovrebbe essere cioccolato e caramellino, così. Allora, andiamo da far mangiare perché questo è un pochetto. per per perlo. Eh sì, ma... È buono. In realtà non sono né di cioccolato né di caramelli, ma sono quei gusti un po' strani. Però è buono, sì sì. Adesso passiamo a questo, la grande incognita. Dove è essere snack a base di frumento. In realtà a me piace la confezione. Come vedete, non c'è molto d'aiuto il nome. E in realtà a me piace la confezione. Come italiana. Subito credevo che fossero lamponi. Ma poi no, anche perché ho recetto gli ingredienti. Probabilmente al pepe di... Ciao, scusate. Ciao, una cosa così. Comunque, tra l'altro sono... ...confezionati singolarmente. Quindi, ogni volta che si vuole mangiare, se non lo dico, sono molto carini. Sono fatte come gli scupituni. Ma sono bellissime. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Sì sono buoni, forse sono fritti, non ho capito di cosa sanno, non sanno nemmeno di pepe, quindi sì non sono male, mi ricordano qualcosa ma non hanno idea, però sono buoni. C'era anche un altro gusto, che non ho capito, perché invece lì di quelle piantine c'erano dei cubi. Ecco io dentro qua, poi magari mi informerò, oppure se voi li conoscete. Adesso visto che comunque siamo verso il Natale, ci sta un pandorino, peccato che ci potevamo mettere un po' di zucchero. Grazie. 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 Ah si, la cioccolata va dentro, è croccantino qualcosa di croccante Poi, abbiamo questo, guardate sono arachidi e caramello E sarebbe questo, Milka, il cantone E sarebbe appunto al, arachidi e caramello Nella commissione del 276 grammi E adesso, vi faccio solo una cosetta difficile Il cabello già è buono Grazie 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 Allora E' buono E' buono E' molto 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 dolce E le arachidi speravo si sentissero di più C'è non è male Ma è parecchio dolce Un po' sottocchivore Buono è E anche il caramello si sente E' anche bello filaggioso però Non è molto caramelloso Però è buono Poi abbiamo questo Allora il cioccolato Chupa Chups Era sconosciuto L'ho scoperto Questo dovrebbe essere Com'è il pop corn Ok vediamo Vedete non mi rompio tutto Ecco Croccante C'è anche scritto Chupi chupi E vediamo come ha C'è anche crossed Chupi Chupi E vediamo Allora E vediamo Allora il cioccolato è buono, è latte, il popcorn è croccantino, ma nei piedi il popcorn mi sembra che sono soffiato, assomiglia un po' ai nippo, che a me piace non so, poi qua abbiamo gli oreo, quelle, ecco sempre i bananas, i bananas, sono normali i ricoperti, dovrebbero esserci anche bianchi, ma non li trovate poi bianchi, credo siano troppo dolci, dovrebbero averli già assaggiati. Quei di questi sono i oreo classici, bianchi dentro qua, il cioccolato assomiglio è buono, anche Simele, se non in favore, è un brato, non cioccolato, il cioccolato è il cioccolato assomiglio, quando con unto, si costruisce un po' aiutato, hanno E poi avevo questi Questi le ho già mangiate Questi sono carini di vedere Cioccolato al latte Cioccolato bianco Il pante stelle E non dovrebbe esserci la crema pante stelle La crema pante stelle C'è un po' di quelli C'è un po' di che Il forte è di un po' di quelli allora questi e questo è finito si sono buoni le faccio assaggiate in realtà sono più carine che buone cioè si c'è il panistelle che gli dà quella marognolo c'è la crema dei panistelle però rimane un po' tutto impastucchiato però sono buoni e anche carini nella confezione ce li sono tutti così se si va al volo fai il riccioccolato si possono mangiare tranquillamente e poi veniva questo ora spero che in farmacelli dovrebbe esserci una sorpresa io subito avevo preso il cuore quello piatto che si dovrebbe prendere all'albero poi ho visto questo con la sorpresa ecco qua cioccolato kinder adesso cercando di assolutamente un accello come vedete è cioccolato kinder vediamo vediamo se non mi esplode un faccio aggiustamente attenzione è da che ecco qua cosa dobbiamo meravigia delle meravigia un pazzo di neve con una cosa con l'aggetto e tre disticosi e ora andranno a fila di cuore vediamo mentre manco un pezzo di cioccolato per l'aggetto per l'aggetto provo a montare a bit 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 Questo 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 E poi Il cordino E quindi Adesso Per venire a mangiare tutto E quindi Buon appetito Buon appetito